un cappello e tenta di dare una scossa Aldair c'è un lancio per Paolo Sergio va a vuoto Costa Curta Paolo Sergio entra in area velocissimo esce Rossi del gol al trentanuesimo Roma a quattro Milan a zero e questo è l'entusiasmo di Zeman ecco, rivediamo l'entrata a vuoto di Costa Curta eccolo qui Paolo Sergio che lo evita e il tiro vincente sull'uscita di Rossi nella ripresa accade ben poco alla ventiseiesimo